punti c'è gente c'è gente qua stanno arrivando un attimo ho un problema io arrivo faccio il giro da sotto me lo pinghi per favore dallo sario forse girano verso sinistra figa ha sparato a me vedo l'ombra è qui è circa preso preso mi ha preso anche lui si a due a due frecce insomma è una merda eh lo so tesoro stavo prendendolo a quello a contro tra beh allora vieni da me che è da solo quello lì eh tanta roba a cazzo sei rimasto senza armi però c'è sì ma tu vieni da me che ce n'è uno da solo tu sei dentro o fuori? fuori sono anche bruciando i bastardi cazzo l'ho hittato per primo porco dio questo qua è una merda comunque eh sì ce l'è sull'angolo no no è sopra di me si mette sull'angolo andalo là hai visto la testa? qua c'hanno i pompa si uno si mi ha ammazzato con ah no con la con la figa mi è rimasto 50 di vita si è lì sotto dopo ci un testa? che minchia men non è una lanterna lì? no a parte che è nell'acqua andrà lì no riesci a prenderlo se lo tiri sul nizzo del ponte si bravo figa sei un grande ti ho detto che erano tre minchioni uno l'ho hittato due volte? tre vs uno vai vai tre contro uno guarda che mi ha ammazzato a me non ti 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 ha ammazzato questo cos'ha? ciao bravo questo mi ha fatto un miname aspetta che ti dico tieni qua ti lascio un centennio qua ti lascio un centennio qua ti lascio un centennio che ti ha ammazzato a me non ti ha ammazzato a me non ti ha ammazzato